Buonasera a tutti amici di Domi Digital, ben arrivati in questo nuovo video, questa sera si parla di MFL Allora, questo video avrà lo scopo di farci un bel giro nel gioco, per chi non lo conosce così capisce un po' le dinamiche, un po' come funzionano le partite e quant'altro Allora, praticamente pochi minuti fa si è svolta la partita del mio club Quindi insieme a voi voglio andare a vedere in live questa partita, il risultato, e fare insieme un'analisi e nel frattempo, mentre guardiamo la partita, parlare anche un po' del gioco e vedere un po' che cos'è MFL Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like e iscrivervi al canale Se volete un video descrittivo di che cos'è MFL, c'è una playlist all'interno di questo canale YouTube in cui ci sono tutti i video In cui ne abbiamo parlato abbondantemente nei live Twitch, in tanti video che cos'è MFL, esempi di partite, analisi di moduli e quant'altro Quindi, tutto questo dopo la sigla Eccoci qua, allora siamo all'interno del gioco MFL Come sapete, praticamente su MFL potete scegliere di essere dei manager Quindi avere dei giocatori, come ad esempio sono questi alcuni dei miei giocatori Questi sono i più forti, quindi di varie realità e quant'altro Potete scegliere di acquistare i pacchetti giocatori e dar l'imprestito in cambio di MFL Praticamente le squadre che hanno i vostri giocatori, vi restituiranno la percentuale che avranno pattuito con voi Per avere praticamente le prestazioni di questi giocatori Mentre per chi come me, ad esempio, ha acquistato dei club Io ne ho due Uno è Inter Digital, che è il mio club principale dove militano i miei principali più forti giocatori Più altri giocatori che prendi in pressito Dove si punta qui, si punta a vincere il campionato, si punta alla vetta È un altro club in cui metto praticamente tutti i giocatori che non ho dato in pressito Non ho messo nell'Inter Digital E quindi praticamente la chiamo la squadra Farma MFL Che è la seconda squadra dove basse pretese E tutto ciò che arriva a fine campionato Quindi le vittorie degli MFL che poi mi serviranno per l'acquisto di nuovi giocatori Tutto è ottimo E devo dire che non sta andando neanche male Quindi qui in modulo difensivo Proprio al massimo di partenze veloci e quant'altro Allora andiamo a vedere come si gestisce per esempio un club Entro e dentro Inter Digital Qui all'interno c'è la dashboard In cui ci sono la partita che andremo a vedere adesso insieme Poi ci sono la mia squadra Poi dove ci sono tutte le caratteristiche, gli attributi, le performance Anzi il contratto che ho con i giocatori Alcuni sono miei, alcuni come vi dicevo in pressito Questi sono i contratti dei giocatori Quindi alcuni, quelli che avete da 0% sono quelli che sono miei Quindi ovviamente a cui non dovrò restituire niente I primi giocatori che sono qui li ho presi in pressito da altri manager E quindi dovrò restituirli delle percentuali rispettivamente In base alla forza, in base a tanti altri aspetti Che magari ne parleremo durante la partita Poi qui c'è la tattica La tattica dove si sceglie il modulo Si possono scegliere tantissimi moduli Poi si può scegliere chi mettere giù i giocatori In base alle impostazioni, in base ai valori In base ai loro attributi Se si vogliono giocatori veloci, giocatori difensivi I giocatori che hanno il tiro forte, eccetera eccetera Per questi moduli ci sono varie istruzioni Che si possono impostare per determinati moduli I calci piazzati in cui si può andare a scegliere Il giocatore che calcia le punizioni I calci di angoli da testa, di sinistra, di cori e quant'altro Scouting in cui si possono vedere i vari giocatori E le varie competizioni a cui si partecipa Bene, generalmente ogni campionato è composto da un campionato e una coppa Con questa squadra io mi sono fermato agli ottavi di coppa E in campionato al momento sono primo Andiamo a vedere insieme un replay di una partita Ecco qua, parte la partita In questa partita, come vedete, in questo momento La partita si svolge con una sorta di ping pong Ma che a breve, come è stato comunicato dal gioco Dal CEO, eccetera A breve si abbandonerà questa configurazione Si avranno i giocatori disposti in campo Si vedrà la palla, il passaggio e tutto Quindi si potrà seguire la partita Nelle azioni salienti La partita vera e propria E questo ci aiuterà a capire ancora di più Come si muovono i nostri giocatori Come intanto il mio attaccante si è mangiato un gol Come si muovono i giocatori in campo Come le tattiche influiscono sul movimento dei giocatori E sulle varie impostazioni dei giocatori Nella partita si ha qui a sinistra un commento Dove il commento delle principali azioni E delle azioni salienti Si hanno delle statistiche In cui praticamente si ha il possesso In questo momento mi sta distruggendo A livello di possesso I gol attesi Che è una sorta di rapporto Tra tiri totali Ti importa e possesso Quindi ci si aspetta Che i gol attesi Qui si è mangiato un altro gol Il mio attaccante Il mio attaccante più forte Che è anche il capo cannoniere di questo campionato E tecnicamente più è alto il gol attesi E più ci si può aspettare dei gol Ma non è una regola fissa Abbiamo visto un documento che ha rilasciato MFL In cui dimostrano che nel 90% circa dei casi Chi ha un gol attesi superiore di 1 rispetto all'avversario Dovrebbe vincere la partita Non è sempre così Ad esempio io ho il confronto Come vi dicevo all'inizio del video Con questa squadra che è una squadra forte Quindi per esempio io Sulla carta sono superiore al mio avversario In questa partita Mentre con l'altra Sono diciamo Inferiore a tutti i miei avversari Quindi lì gioco con un 5-3-2 Quindi molto difensivo E quindi ovviamente i gol attesi Non sono alti Perché faccio un gioco prettamente difensivo E devo dire che lì Strappo dei pareggi Alcune volte anche delle vittorie Con gol attesi magari inferiori al mio avversario E riesco alcune volte anche addirittura a vincere Intanto i miei gol attesi Ad esempio il possesso palla Si sta riequilibrando in questa partita I gol attesi miei stanno aumentando I miei attaccanti si stanno iniziando a scaldare Continuano a mangiarsi gol Come vedete praticamente nell'aria Il fatto per esempio Ci sono le caratteristiche dei giocatori Che in base al modulo Possono variare i risultati Sicuramente avere un attaccante con un tiro Che è di un valore molto alto Causa In fine primo tempo Causa praticamente una situazione Che quasi tutti i paloni che tocca Potrebbe segnare anche in base al difensore Che c'è di fronte Oppure al portiere Soprattutto che ha di fronte Andiamo a vedere nel dettaglio questa partita Lui gioca con un 4-3-3-tif All'andata Lui commette un errore Che è quello di giocare quasi sempre Con lo stesso modulo Quindi tecnicamente Può essere Facilmente studiabile Perché si può vedere Tutte le partite che ha fatto In precedenza E i moduli che l'hanno affrontato E io ho notato che Il 4-3-3-tif Che è il suo stesso modulo E' un modulo che lo mette in difficoltà Molto probabilmente Perché ci si gioca Gol Dando segnato 1-0 Pineda Il mio attaccante destro Quindi siamo in vantaggio Probabilmente perché Lui gioca con Difensori un po' Un po' praticamente Bassi di overall E intanto 2-0 Meyer Che è il mio Finalmente si stanno Ripagando I gol sbagliati Al primo tempo 10-0 Importa Praticamente 2 gol Non è affatto male 2 gol subito Uno dopo l'altro Quindi ho notato Che lui E' andato molto spesso In difficoltà Con squadre Che giocano Con 4-3-dif Quindi probabilmente O ha qualche impostazione Che lo rende vulnerabile Ad esempio Magari Gioca Con la difesa 4 Larga E quando giochi Con i 4 difensori Larghi Secondo me Puoi andare In difficoltà Contro 3 attaccanti Se sono veloci Perché possono Possono darti Molte Possono entrare Molto velocemente In aria E quindi magari Possono andare in difficoltà Quindi probabilmente Lui va in difficoltà Per questo motivo Per i discorsi Di 3 attaccanti Era un molto Intanto 3-0 Ormai di lago Ottimo E Secondo me Ero molto combattuto Come vi dicevo Perché All'andata Ho vinto 3-2 In una partita Tiratissima E Lui intanto Ha segnato Con il suo Attaccante Coleman E Andiamo a vedere In posto Coleman Ah no 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 È difensore centrale Bene Quello che criticavo prima Alla fine mi ha proprio segnato Questo è il karma E Quindi praticamente Ero molto combattuto Perché volevo ripetere Con il 3-5-2 Però E Avevo paura Un po' Del discorso E dico Magari Le statistiche Non erano Molto a mio favore Erano molto equilibrate Ho strappato Un 3-2 Quindi dico Ma Lui aveva anche perso Un'altra volta Con un 3-5-2 Quindi ero molto combattuto Però alla fine Dico Secondo me Io con il 4-3-3 Riesco a scendere Molto più forte Infatti questa è la mia La mia squadra Dove qui ho un fuori ruolo Ma è un fuori ruolo Molto interessante Perché il mio Tong Ha un tiro Che è elevatissimo Un passaggio elevatissimo Quindi Mi aspetto che possa Segnare Nel caso in cui Dovesse entrare in area E tirare E poi Quindi praticamente C'ho un attacco Veramente fortissimo E praticamente Una difesa Potrei mettere Una difesa a 4 In cui c'ho Il mio terzino destro Che è un top player Un difensore centrale Abbastanza Poi ho fatto anche Qualche turnover Per equilibrare Un po' il tutto Intanto Vinto 3-1 Sono veramente Felicissimo Andiamo a vedere La classifica Come è variata Intanto Il rapporto Si può vedere Il rapporto A fine partita Dove si può studiare I movimenti Si possono studiare Un giocatore Quanti tiri ha fatto Quanti passaggi La difesa Quanti interruzioni Di palla Hanno fatto Il suo colleman Ha giocato Nonostante Sia a basso Di livello Probabilmente Probabilmente Andiamola a vedere Giusto così per capire Allora Velocità 63 Difesa 65 E fisico 73 Devo dire Che non è Non è affatto male È un po' bassino Come 85 Come Come energia Secondo me Non va Perché è un po' Troppo poco Quindi devo dire Mi devo dire Molto 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 soddisfatto Quindi andiamo a vedere La panoramica In cui c'è Una classifica Veramente Ragazzi Un campionato Veramente Tiratissimo Tiratissimo Dove Ci abbiamo Praticamente Dalla Ora Dalla settima Penso Che Che dovrò Affrontare Domani Ci siamo Allontanati A più 10 Quindi almeno Io penso Che lei Che il Saint Etienne Praticamente Sia fuori Dalla lotta Il Trokill Che è una squadra Molto 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 Forte Che sta A 6 E secondo me Da qui A qui E tutto Praticamente Può succedere Veramente Di tutto Perché sono Veramente Sono squadre Molto 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 Forti E La prossima Quindi ce l'ho Contro i Saint Etienne Spero di Vincere E andrò A fare Uno scouting Andrò A vedere Con calma Tutte le Caratteristiche Quale Modulo Gioca Con quale Modulo Va più In difficoltà E quant'altro Tante 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 Analisi Nel frattempo Ne approfitto Di questo Video Vado a farmi A questo Mondo In giro Anche Su Gingak Non ho Visto La partita Lì Si cambia Un po' Registro Perché passiamo Da una squadra Dalle basse Pretese Già il fatto Che Con questa squadra Sono arrivato Ai quarti Di finale Quarti Di finale Di coppa E c'è Un risultato Incredibile Perché già Dalle ottavi Si guadagnano MFL Quindi per me Questa squadra Che si chiama Come vi dicevo All'inizio Farma MFL Per me Qualsiasi risultato Positivo Qualsiasi posizione In classifica Che non sia L'ultima Per me È un risultato Buono Perché considerate Che io Come Overall Sono praticamente La squadra Più Debole Del campionato Quindi ci può stare Ci può stare Che perdo Ad esempio Contro L'Hamburg Junior Che è quarta In classifica Mi aspetto Una sconfitta Quindi dal pareggio in poi Il pareggio in poi Tutto a posto Ovviamente Qui si switcha Di mentalità Lì si vuole vincere Il campionato E qui Si vuole portare avanti Poi ovviamente Più si cresce Più si guadagna MFL Più si spacchetta Più si prendono Giocatori Più ovviamente La squadra Inter Digital Diventerà forte Più praticamente Quelli che non sceglierò Di portare Con Inter Digital Andranno con I Ginga Con Ginga E quindi Anche Ginga Pian piano Diventerà più forte Parliamo di entrambe Stessa divisione Quindi alla fine Come premi Siamo nella stessa Lega E quindi Secondo me Si potrebbe Si potrebbe Pian piano Aspirare A far diventare Ginga Pian piano La squadra Che merita di essere Anche perché Lo scorso campionato Comunque Quando l'ho acquistata Ha vinto Comunque Una Stone League 10 Con il suo vecchio Allenatore Quindi comunque sia Le ho creato Una storia dietro Fantastica Perché Ginga È praticamente Una squadra Di Portoallegre Brasile È stato uno dei motivi Per cui l'ho presa Perché è la città Che ha dato i Natali A Ronaldinho Che è uno dei miei giocatori Preferiti Che è uno dei giocatori Che mi ha fatto Innamorare del calcio E quant'altro Infatti Lo stemma Non so se si Eccolo qui L'ho L'ho creato In onore Del grandissimo Ronaldinho E l'ho chiamata Ginga Perché I più appassionati Di calcio Sapranno Che cos'è La Ginga Che proviene Dalla capoerea Che è praticamente Quell'arte Che Su cui si basavano I più grandi giocatori Dei brasiliani Da Pelé Praticamente In poi Quindi diciamo Che ci ho creato Anche questa storia dietro E quindi Mi aspetto Che pian piano Questa squadra Possa crescere E possa regalarmi Anch'essa Delle belle gioie Andiamo a vedere Questa qui Non ce la vediamo tutta Come comincia la partita E la mandiamo Direttamente avanti Aggiorno la pagina E vedo direttamente Il risultato Ma la squadra avversaria Qua Stiamo parlando Di una squadra Che ha 62 68 74 Ti attacco Che gioca contro Nonostante gioca contro 5 difensori Comunque sono 60 Quindi stiamo parlando Già di 14 Di overal superiore E quindi Qui veramente Si parla Di una grande differenza Quindi andiamo a vedere Come va a finire Questa partita Ho Seri dubbi Che possa andare A finire bene E 3 a 1 3 a 1 Va bene Ci sta E nonostante questo Devo dire Anche gol attesi Ho fatto anche tirato in porta Anche tirato in porta Abbastanza E Probabilmente qui Gli esterni Vabbè Comunque sia ragazzi Cioè C'hanno Se lui c'ha Un attaccante Che praticamente È 78 Ed è Praticamente Un altro 68 69 Davanti a un portiere 58 Ci si aspetta Che se lui Ha Vediamo a vedere Di tiro Di tiro 87 Tantissimo È tantissimo Quindi significa che Ci abbiamo Un tiro Contro Il valore Di una parata Che è 58 Ed è Quasi il doppio Quindi Ci si aspetta La sconfitta Quindi per questa volta Non è andata bene Ma per esempio Già ieri È andata bene Con un pareggio Strappato 1 a 1 Come vi dicevo Anche una qualificazione Quarti E quant'altro Quindi Quindi ragazzi Allora Ci siamo fatti Un bel giro Nel gioco Magari Chi Non conosceva MFL Magari ha avuto L'occasione Di guardare Più o meno Come si svolge Una serata tipo Per un giocatore Di MFL Quindi Entrare Guardarsi le partite I risultati E quant'altro E da adesso in poi Io utilizzerò Questo momento Per Generalmente lo faccio La mattina Per studiarmi L'avversario Per capire Che modo lo usa E quant'altro Quindi è veramente Un gioco Come la generale Tutti gli effetti Che è agli inizi Proprio Agli arbori Quindi ci sono Mille dettagli Che cambieranno Mille novità Che ci saranno Che ci sono Sono state già Annunciate E che a breve Arriveranno Ancora più forti Ne saranno Ancora tante altre Poi parliamo Di giochi Medaginali Dove Veramente Si può fare Veramente La qualunque La qualunque Veramente Cioè Si parla Dei giocatori Che entranno In pensione Che diventeranno Agenti Dagli allenamenti Allenare nuovi ruoli Mettere Caratteristiche Maggiori caratteristiche Sulle tattiche Cioè Si parla Hanno annunciato Praticamente La visualizzazione 2D Delle partite Hanno annunciato I miglioramenti Dei giocatori Annunciare a breve Arriverà anche La promozione Nelle leghe superiori In base a chi Si classifica Un tot Quindi promozioni Retrocessioni Quindi si può aspirare Più MF Cioè Veramente ragazzi Parliamo di un gioco Che è fluido L'avete visto L'abbiamo visto insieme Che gira E che appassiona Già tantissimo E che praticamente Ha veramente Un'aspettativa Secondo me Infinita Detto questo Detto questo Io Vi ringrazio Per aver seguito Questo video Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al MFL Vi lascio il link Qui sotto In descrizione Per chi vuole Approfondire Confrontarsi Chiedere Vaggiori info Quando potete scrivere O qua sotto Nei commenti Oppure venitemi A trovare Nel gruppo Telegram Dove siamo Tantissimi C'è un topic Dedicato a MFL In cui ci siamo Tutti noi giocatori Di italiani Di MFL In cui ci possiamo Confrontare Divertirci Chiacchierare Confrontarsi su tattiche Sfidarci Allenarci Eccetera Quindi ok Grazie mille a tutti Ragazzi da Domenico Buona serata Da Domenico Di Domi Digital Domenico 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 Domenico